A seguito dell'incontro di oggi al Comune di Giarre con il direttore dell'ASP3, Franco Luca, il Comitato Cittadino, che da tempo si batte a favore dell'ospedale di Giarre, ha diramato una nota. Il Comitato Cittadino prende atto ancora una volta, senza alcun stupore, della salute e indifferenza da parte dell'amministrazione giarrese nei nostri confronti, in merito alla conferenza di servizi tenutasi stamattina presso il Municipio di Giarre, tra i rappresentanti istituzionali e non dei comuni del distretto riguardante le problematiche di rimodulazione del nostro nosocomio. Tra l'altro non troviamo a tutt'oggi nessun riscontro alle iniziative che tale conferenza abbia deliberato. La cosa non ci rammarica più di tanto, anche perché il Comitato ha da sempre dimostrato di intraprendere iniziative che puntualmente vengono ricalcate tardivamente dall'amministrazione. Se a tutto questo aggiungiamo che ad oggi non è stata proferita alcuna parola di solidarizzazione da parte di nessuna amministrazione del distretto a cominciare da giare nei confronti dei rinviati a giudizio, non possiamo che provare il totale disappunto sul modus operandi delle istituzioni comunali in merito alla vicenda ospedale. Inoltre ci preme ricordare pure che tale battaglia è stata determinante nelle ultime elezioni amministrative, durante le quali il Comitato non ha esitato a mettersi in prima linea contro quanti fossero ritenuti responsabili della situazione ospedaliera odierna. Nel ricordare a noi stessi e a tutti la comunità ionico-etnea che il Sindaco di Giarre, l'Avvocato Angelo Danna, con la rete delle associazioni, ha condotto negli anni analoga battaglia, non ci spieghiamo perché oggi, così come mesi fa, alla notizia del rinvio al giudizio dei 35 cittadini, l'atteggiamento del Sindaco e dell'amministrazione sia così remissivo e freddo nei nostri confronti. Bisogna che sia chiaro a tutti che solo l'Unione fa la forza e solo se si rema tutti nella stessa direzione una meta può facilmente essere raggiunta. Allo stato attuale il Comitato non riconosce più quell'unità di intenti necessaria, auspicando che si dia vita ad iniziative funzionali al perseguimento dell'obiettivo e non a passerelle utili solo a mostrarsi in bella vista al cospetto di qualche telecamera. In conclusione, se le nostre stesse iniziative vengono puntualmente ricalcate, perché il Comitato deve essere tenuto in disparte?